Buon principio di iniziare così, grande tarallo Dai vieni qua, senti vicino a William, dai Poi si correggono gli errori così non possiamo più dire niente poi Ah, quello Si guarda, si dice Luca parli tanto, vediamo Salutare un pubblico Quanto l'ho trascutata? Mica Luca puoi andare a Lombardo, ragazzo Chi è Gombino? Fili, guarda che arriva l'arbitro adesso Vieni qua, vieni qua, teni una parola Ma si vede bene con le ginocchia Ma non lo quellto qua Ho detto tu Ho detto in me Non ho fatto neanche adesso Ah, ho detto Dai, ho detto Dai, ho detto Mi hai detto Tranquillo Dario Tranquillo avanti E' solo Dario Grande, grande Cosa? Si butta dentro Questa è una squadra Filma, filma, Tarasio Questo è una squadra Aspetta Aspetta A che fare, scappando bravo Dario bravo Dario bravo Luca va bene bravo Dario bravo Dario bravo Dario bravo Dario Dario era buono senza fare fallo bravo Dario 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 Mettila Mettila tu, Seve Mario è partito Mario E' nuovo dietro Luca Di getto Arbitro Bravo Livio Bravo Dai dai Bravo Dario Bravo 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 Non è uscita Non è uscita Non è uscita Bravo Punta 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 Dai mettetela in mezzo Mettila in mezzo Arbitro le spinte sono fallo eh Le spinte sono falli eh Quello si Bravo Bravo Un po' Un po' Un po' Mi sono un po' perso qua eh Grazie. 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 Dai. 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 Venga che tirone. Che tiro. Grande Gigetto. Poi ti rivedi eh cosa hai fatto. Un sicuro. Ho fatto fatica anche a seguire per la palla eh. Vai dietro Eli. Si si si. Guarda te Eli. Dai. Solo che qui non sono chilometri all'ora. Sono chilometri al giorno. No. 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 Honey. No. No. guarda dietro albi Criuri, Dario Dario guarda prima quando è così Dario, Dario Vai in mezzo, in mezzo uno Va bene dai, bravo Gigetto Che bravo, lì doveva saltarlo andare via, ma che bravo Mettila Mettila Bravo Ma quando fai il cross E' stato un colore Perché se non la prendo Perché se non la prendo E' stato un colore E' stato un colore Si 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 ho mai sentito dire fammi correre i bianchi 3 contro 2 va bene o c'è dai uno bravo Gigi bravo Enrico ok va bene squalifichiamo il calcio vaga la luce avete fatto male del presidente ma perché d'acqua 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 zitti zitti proprio la strategia chiudiamo la chiara quindi come qualcuno aspetta dopo può arrivare Enrico vuole uscire Dario vuole uscire Dario io dico solo una cosa quando ce l'ha fatta a nero queste cose non succedeva bravo e tu sai dove è il nostro presidente? dov'è? 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 quel piccio mi fa sto a casa a buffare con la Juve sta vincendo due no Giacomo e levi ma Giacomo e levi ma Giacomo e levi ma che ne hanno vado due 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 quello di qui io è io è però non è la con le spalle di noi c'è io ho detto il tuo quartiere di quale Tomazzone sveglia c'è caduto si ma puttana sta guardando Enrico ma chi è che l'ha preso con le mani metto un replay lui è ovunque non si vede di qua in nero si è ragno si è scaldato un po' mi sa se ha chiesto il terzo ah mauro si ha chiesto il terzo ecco perché si vede meglio non ce lo faccio bravo Luigi questa è bella non è che sta a crescere non è che sta a crescere ma è che sta a crescere dai che l'ha preso bravo e nessuno viene aspetta che chiamo io 118 aspetta come ti chiamo in realtà cosa faccio guarda che è veloce ma non stai giocando ciao Gerry ciao ciao pubblico delle grandi occasioni quanto siamo? Gerry quanto siamo? 0-0 credo è già a secondo tempo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Il secondo tempo, Gerry? Sì, sarà più lungo il secondo tempo, perché il primo tempo è finito prima. Non è simbile. Non è simbile, 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 non è simbile. Non è simbile. Non è simbile, non è simbile. 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 Torno! Non è simbile. Non è simbile. Non abbiamo credente è sapere che il doppio vento li copriva la vista. Non c'è più. che aveva preso non c'ha più come forse o no Grazie. Guarda che diagonale che abbiamo fatto. Anche nei fondamentali Tomaino mi stupisci. Grazie. 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 Gioco di mano, gioco da Villano, vengo io! No! 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 Grazie a tutti. Mamma mia, mamma mia. Spalla contro spalla. No, ma poi non sono capaci. E gli ho sempre tutti i figli. Almeno siate umili, come noi in panchina. Dove vado a entrare? Vado a entrare? Stefano, vai caro. Scusa, già non gioco. Minchia, Fabri. Porca troia, qua c'è Mediaset Premium. Non è che... Da sempre. Ma io penso dopo la guerra. Dal 45. Ah, quella è il 15 di ciò. Guarda, guarda Vito. Guarda il pregoverso. Ma tu ti sta. Ma ci deve essere già. Eh, ma Gianni fa il tanzino. No, lì deve essere cittadino. Voglio chiedere il tanzino. Vito, Vito deve cantare il tanzino. Prima, prima, era giusto. Prima. Quando giochiamo con la difesa 6. Ascolti, ma anche oggi. Una volta che potevamo farne 3. Ma non è vero, cazzo. Vito, al primo tempo sì, Fabri, hai ragione. Minchia, al primo tempo non hanno fatto il giro. Adesso sta giocando solo lui. Ma no, dai. Bravissimo, Vito. Appoggiati adesso. Oh, oh. Vito, al monifio. Ha detto Buddha. Ha detto Buddha. Io sono giustista. Vai, vai, Kray. Ti ci porto così. Zio. Brava, brava. Ti ha monifio, anzi, ti buttano fuori. Io sono come... Vai, che si chiama. Vai, che si chiama. Vai, che si chiama. Ma perché chiama il pregoverso? Perché non c'è il pregoverso? Buonissima, vai, Dario. Vai, vai, Dario. Dario. Ma vai, affatto. Dai, che angolo, dai, che angolo. Di pancia. Dai, che angolo. Dai, ma poi fare un gol anche lui. Dai, è già. Ho capito. Come giochiamo così? Non mi stai. E' ricco ci fa. Ma dai, guarda così va bene. Gianni, dai. Dai, gioca. Cazzo, eh. Dai, dai. Dai, dai. Va bene col portiere di là. Non mi stai mai detto di fare. Gianni è col portiere di là. Dai che lo facciamo. Guarda qua, adesso si inventa qualcosa. Autogol. E vedi? Guarda che passaggio. Guarda che mica riusciamo noi a fare questi passaggi. Ma noi non riusciamo a fare quei passaggi tra di noi, eh? Chi è il 5 per l'altro, invece? Che cazzo ci fanno? Eh, fa l'attaccante. Fa l'attaccante. Si è perso. C'è il navigatore. Uff, hai sbagliato. Bravo Gianni! Hai sbagliato rotonda. Mamma mia. Fa l'inversione di marcia. Alla terza sinistra. Bravo Pasquale. Mi chiamano se le da massare. Bravo Pasquale, bravo. Ma chi è qua il misto che ci fai i cambi? Fai lì te i cambi. Io, io sono. Dai, vai a fare l'ultimo uscito. Sono l'ultimo uscito. È l'ultimo uscito che non entri, quindi fai usare noi. Come cazzo faccio a dirgli? Dai, io il posto di Isci. Oh, Cristiano è Isci. No, no, no. Il posto di Davide. Tre quarti di partita a destra, dai. Dai, tu. Anche se... E infatti, Dario è morto, Dario è morto. Dai, ma già ben entrato. E' là che gli stanno dando l'estremuzione. Dai, cambio quantità. Dai, ho. Allora. Non vi fanno più entrare. Non vi fanno più entrare. No, no, dai, diciamogli l'alabito, dai. No, 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 no. No, 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 metti solo. Arbitro! Minchia! Non ti dispiace. Dario, Dario, non l'ha detto lui, Dario. Questa l'ho presa tutta, eh, Dario? Non lo so la digerire. Non lo so la digerire. Non lo so la digerire, eh? Non lo so la digerire, eh? Non lo so la digerire. Solo! Vieni qua, vieni qua, ciccio, vieni. Vai, Pasqua, voglio arroncare le balle. Pasqua! Adesso cosa fai? Dai che esce, dai che esce, dai che esce. Non lo so la digerire. Ho! Ho! No, raga, ci stiamo a parlare. Eh, Cesare, 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 non ha più lo scatto. No, vedi, dai. Ma è che non è la cosa qua? Dai, dai, dai. Ci devi credere. venia di prima solo, solo solo, giocano adesso bravissimo solo di nuovo Vito, solo di nuovo come prima ancora Vito, non ti fermare valla a riprendere ancora, ancora Gianni bravo Gianni Vito, facendo una vaga bravo Gianni e ci sta anche il pallo, però chiamalo bravo Gianni bravissimo bravo Gianni vieni vieni te non l'hai permesso l'altro giorno questo qua eh, quanto il burgo, adesso burgo bravo Gianni tre per tre sette tre per tre sette non fissi tre per tre sette no, hai già preso non bisogna parlare con i giocatori vai, vai, vai giri i cartellini ok solo quello 22 e non mi permette di dire niente nessuno si anche i piedi sono quello che sono siamo in un cerchio di tre guarda, guarda, guarda guarda, guarda, guarda va bene, va bene Fabri a prendere che andava dentro bravo i piedi vieni adesso entra adesso entra adesso entra io ne marco uno Vieni vicino Vito, vieni vicino! Già mi sono presa Ancora largo! Vieni vicino, vieni vicino! Ma veniva centrocampo adesso! Occhio che parte di qua, raddoppia, raddoppia, raddoppia Bravissimo Vito, bravissimo Vito! 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 Piano, piano Fabri Ma che cazzo ne fa la biancchia? Giusto Gigio, però proteggila Gigio Solo Ma abbiamo finito di parlare Ma che la metti dentro? Stai! Dai Ciccio Ciccio! Vai spegni le luci Dario Oh raga, qui davanti, qui davanti Minchia Vado da Dario No, glielo dico io a Dario Lascia che vada fuori Solo Solo Bravo Gigio, Gigio, Gigio Dai vieni adesso, vieni, vieni Sì Un' arbitro si consenta? Vime Yesi Fabri Bravo Così tanti Tieni la non la perdiamo Aspetta aspetta Bravo Mica Largo No 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 Vai di vicino Eccolo qui Vito Bravissimo Aicri Aicri Piano Aicri Vieni la perdita di Cera Ehi Vai l'incontro Vai l'incontro Non la lancia solo e basta Dai due a zero è finita Se finisci uno a zero va bene lo stesso Bravo Dai facciamo sta doppia cifra Piano Solo Oh su sette Vito stringi su sette Vai dentro Bene va bene va bene Dai torna in posizione Gigio davanti alla difesa adesso Davanti alla difesa Aperti subito Vito Ma basta così Esci Gigio esci Bravissimo Ora Ora Profondo profondo Prego Vieni 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 Vito Gigio davanti al pallone Gigio Ancora 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 Lui Va bene Lui In mezzo al campo adesso Non siete più lì Dai in mezzo al campo Vieni Vito Vieni Vito Bravissimi Bravissimi non farlo giocare Fabri non farlo giocare bravo aia aia non far fallo vieni 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 a prenderla tranquillo tranquillo sto posto Gigio si si c'è anche più l'acqua per un povero cristiano non per te per un povero cristiano c'è anche più l'acqua oh oh vieni a parte parti allora parti 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 fai legno fai legno Fabri fai legno bravissimo bravissimo a questo punto lascio è vero è vero io ritiro il tesserino esci tu per primo non fa un panno dietro ho anche fuori sta palla è piuttosto dai che buona dai che buona non farò giocare stagli solo davanti uno che salta a noi mettila giù vieni a prenderla vieni a prenderla bellissima vai dentro vai dentro vieni Gianni vieni a battere Gianni vieni a battere Gianni stringiamo di cuofero si l'acqua è fredda bravo Albi sono davanti bravo Albi così che non si gira ma scherci tu da sola portala su ancora bravo uno che si fa vedere girala ancora bravo così manda adesso manda adesso dai raga un minuto dai un minuto vasca davanti finito e andiamo e andiamo e andiamo e andiamo e andiamo e andiamo grandissimi raga dai 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 scusate passate 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 bisogna solo romperti il cazzo per farvi giocare bene no non si ora quello si non si non esiste non vengo fredda la porta la porta quali chi è la porta allenamento la porta quali chi è chi è guarda minchia ma quando adesso è corretto questo grandi no le luci ma niente non c'è il cazzo il cazzo il cazzo non c'è fredda non c'è fredda stavo 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 io conosco la cerca chiara ufficialmente che chiara e non ci hanno aperto il messo per il messo è una psichata infatti da giunno io ho finito non so che ho fatto eh ma ti giuro eh ma ti giuro eh ma ti giuro non vale che puoi no, 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 no non lo so ma tu hai parato prima no, 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 guarda ti occhia da me no, ragazzi se hai tre punti fateceli godere non ci prende davvero non ci prende davvero eh? io neanche l'ho visto ma come è stato? mi giuro 2 a 0 2 a 0 cosa ho fatto? una vacca l'ebrea dell'altro pallone non ci prende davvero siamo a otata